Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in a 1 rallentamenti per perdita di carico tra Aglio e Barberino in direzione sud. In FIPRI rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Sempre in FIPRI per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei sensori per il monitoraggio dei flussi di traffico, anche quest'oggi in orario 10.14 è prevista la chiusura alternata della corsia di marcia e successivamente della corsia di sorpasso dal chilometro 2700 al chilometro 26 in direzione Firenze. Per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che sono in corso i lavori di rifacimento dell'acquedotto in via bolognese e i percorsi alternativi sui nostri canali social. Può aver sentito Scania in un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!